Vogliamo chiamare un'altra? Guarda, a me mi è pure da ridere, perché fai sta faccetta? Vogliamo chiamare un'altra? E ridi, perché pensi che si arrabbia, ti dai comitate con quell'altro che ancora ti dà retta. Io, guarda, non rispondo a queste provocazioni, mi fai sorridere, mi fai sorridere. Chiama chi vuoi, già te l'ho detto ai tempi. C'avrai una rubrica piena, no? Di celebrities. La metà ti avranno bloccato, l'altra la metà se ti rispondono. Di un po'.